L'avevo scritto perché l'avevo già letto, 1926, di questa presenza, di questi resti mortali, non sappiamo come saranno, di Beato Antonio D'Affano. Sepolto a Santa Maria Nuova in San Lazzaro e poi trasferiti, quando hanno costruito Santa Maria Nuova in San Salvatore, che non significa dentro la chiesa e buttando giù quella precedente, ma accanto l'hanno fatta, hanno trasferito queste spoglie, chiamato Beato, così a voce di popolo. Conclusione, non abbiamo molti elementi biografici di questo, però dopo aver letto queste cose, quando mi sono interessato di Santa Maria Nuova, mi sono ricordato di padre Francesco Telamonti, che con un fare molto estroverso mi faceva, tu non lo sai dove lo messi, tu non lo sai dove lo messi, qui, qui dentro sono, qui dentro. Ecco, io ero forte di questa memoria direttamente da chi aveva compiuto questo trasferimento. Molti si chiedono, chi non è addentro a queste cose, una collocazione un po' strana, cioè come mai si è fatta questa scelta? Non saprei cosa dire, io nel 59 ero ancora molto giovane, però è una collocazione nel senso che non avendo devozione verso questo personaggio, chiamiamolo illustre, anche ambasciatore o diplomatico della Santa Sede, del re di Aragone, eccetera, possiamo dire che a un certo punto dice ma cosa stanno a fare? Era il tipo Telamonti, perché non lo buttiamo? Lo mettiamo via, tanto non c'entra niente. Si può tracciare una piccola figura di questo frate? Come dicevo, elementi biografici ne abbiamo pochi allo stato della ricerca, perché se magari ci mettessimo a fare una ricerca approfondita, minuziosa, potremmo risalire magari agli atti storici del Quattrocento. Beato per chi? Perché non c'è traccia neanche di questo. Adesso è tutto ben regolato. Una volta lo chiamavano Beato, pensiamo a San Francesco d'Assisi, il Beato Francesco. Quando lui è morto, il Beato Francesco, i primi biografi scrivono il Beato Francesco. Era voce di una devozione, diciamo nei confronti, di una persona che era vissuta santamente, non fosse fatto anche grandi miracoli. Conclusione, a questo è stato dato il titolo di Beato Antonio, però nessuno ha fatto mai una ricerca di santità, di meriti e di miracoli, come usava allora, e quindi non c'è stata una conclusione con ratifica pontificia sul culto antico e poi il permesso di venerarlo pubblicamente.